Musica Ben trovati a cose di calcio in una giornata di verdetti perché questa sera in questo momento sta giocando la Coppa Italia Inter contro l'Atalanta Giornata di verdetti anche perché finisce, è finito alle 20 il mercato di riparazione ma continua la crisi Milan, continua anche la giornata di calcio più intensa arrivata la sua ventesima giornata Ben trovato Io sono un uomo della Coppa Italia possiamo dire perché ogni volta che so qua c'è la Coppa Italia quindi la prossima settimana rifaranno la Coppa Italia Coppa Italia fino a maggio praticamente Fino a quando non finisce Esattamente, il Carnevale e la Coppa Italia Molto molto bene, molto molto bene Buonasera, buonasera dottoressa Oggi in nero, benissimo, benissimo Oggi siamo in nero ma gli argomenti sono tanti Iniziamo subito Diamo il più caloroso benvenuto a Francesco Mafera giornalista sportivo Ciao Francesco Torna a trovarci anche lui Daniele Magliocchetti Vice direttore di TAG24 Baioni Cusano Ciao, buonasera a tutti Stasera è on fire Sì, lo vedevo abbastanza caldo Non c'è Pioli che è on fire C'è lui che è on fire Benissimo Torna da noi anche Simone Beltrambini di Calcioline.com Buonasera Buonasera Debora Buonasera Flavio Buonasera ai tuoi ospiti Ciao Simone E sulla situazione Napoli Su questo Napoli caldo Che corre, che va veloce Abbiamo Ilario Covino Di Spazio Napoli Buonasera Buonasera a tutti Ciao Ilario Ciao, buonasera E poi abbiamo Dovremmo avere anche Da Purtroppo Ancora no Ancora no Ancora no Stiamo anche per Organizzare un collegamento Un chi ci racconterà Com'è andata la giornata L'ultimo Giorno di Calcio Mercato L'ha seguito da Fiumicino E il nostro inviato Lorenzo Petrucci Con cui ci metteremo Tra pochissimo in contatto E ci racconterà ovviamente Tutti i ritroscena Di questa lunga giornata Con tanti tante operazioni Anche qualche colpettino E anche Attenzione Un giallo Perché il calcio mercato Si è concluso con un giallo Bisognerà capire bene Se verrà formalizzato o meno Un passaggio O anzi un ritorno Perché tra l'altro C'era l'anno scorso Simone Verdi Ritornerà o meno Alla Salernitana Chissà Lo scopriremo solo vivendo Come cantavano Ma io voglio capire Cosa è successo In questa ultima giornata Di mercato Che si è chiusa Ricordiamo alle ore 20 Partiamo Francesco Mafra Grandi colpi Non ce ne sono stati No È stato un mercato Abbastanza piatto Anche perché sappiamo bene Che quando Ci troviamo nel mese di gennaio Le squadre Mirano soprattutto A puntellare gli organici E In questa sessione Hanno confermato La tendenza Che solitamente Si segue In questa In questa sessione Grandi colpi No abbiamo parlato Appunto prima Della Lazio Forse il colpo Più esaltante Ma relativamente È quello Dei bianco celesti Che hanno portato A casa Il cartellino Di Luca Pellegrini Secondo me È un buon È un buon innesto Ecco Parliamo di questo innesto Lo facciamo subito Cosa ne pensi Rite sorgnone Tra l'altro È sorgnone Che altro Devo capire Perché ritevite Prima Lui ha fatto No Sono contenta Dico Sono contenta Che nella Lazio Ci siano stati Comunque nuovi Innesti Serviva forse In attacco E questo In realtà Il vero problema Si è pensato In difesa È una cosa Che pensano Tanti E non L'allenatore Perché La Lazio In attacco Senza Immobile Ha vinto a Bergamo 4-0 E È vero Che da punto di vista Adesso Scherzi a parte Da punto di vista Probabilmente di Rosa E vedendo anche Le altre squadre Un attaccante Come Immobile Che Che possa sostituirlo Servirebbe Però è anche vero Che quest'anno La Lazio Con Felipe Anderson E anche Pedro A volte È riuscita A soppurire All'assenza Del suo giocatore Di maggior successo Sottoporta Cosa che Manca Ad altre squadre E Ogni riferimento È puramente casuale All'interno Degli ultimi Expluat Ultimamente No Adesso La Lazio Ha preso Pellegrini È un giocatore Che serve La Lazio Perché La Lazio Gioca con Tre tersini Che sono Marusic Lazzari E Isai Che sono Tre tersini Destri Marusic È adattato Da sinistra E Luca Pellegrini È un Un giocatore Che voi Conoscete Abbastanza bene Immagino Che secondo voi È una pippa Ma in realtà Invece non è Un giocatore Così scarso Penso che Con Sarri Possa dimostrare Di essere un giocatore All'altezza Della situazione Sei contenta Che ti ha fatto Una disammina Di questo tipo Perfetta Ed è un destro Che gioca a sinistra A piede invertito Se non mi ricordo male Quindi secondo me È un tipo di acquisto Che può servire Alla Lazio Proprio perché È sbilanciata In quel reparto Lì Sui esterni bassi Ma grande fortuna Della Lazio C'è da dire È anche Al centrocampo Un centrocampo Che dà Molto sostegno Anche in un gioco Per renderlo più veloce E più dinamico Simone Beltramini Sì Deborah Certo che Sarri ha costruito Le sue squadre Su un gruppo eterogeneo Io credo che ci siano Dei fattori importanti In questo mercato I pellegrini Sono d'accordo Con Daniele Credo che sia Un ottimo innesto Tra l'altro Mi ha stupito Quando l'estate scorsa La Juventus Decise di mandarlo via Nonostante Nella Deprecabile Stagione precedente Vabbè Lasciamo stare Anche questa Quindi a Torino Forse Incroceranno Le dita Però Fu uno dei migliori Giocatori della Juventus E continuo a stupirmi Delle scelte Diciamo di mercato Di quella che fu L'ormai dirigenza Juventina Depauperata Completamente Quindi Qualcuno adesso Ha voluto anche Gettare l'amo Di pellegrini Potrebbe essere L'apertura Per un trasferimento Di Milinkovic Savice A Torino L'estate prossima Io dubito Fortemente Visti I gravi problemi In cui verte La Juventus In questo momento Però Ecco Pensiamo che La Lazio Stia facendo Molto bene Il merito Sì dei giocatori Ma anche di Maurizio Sarri A Lario invece Chiederei ovviamente Del Napoli Primo in classifica Che sta Stravincendo Il campionato Ha vinto anche Domenica scorsa Contro la Roma 53 punti Più 13 Dopo queste Prime 20 giornate Ecco Migliorare Una squadra Che viaggia Ad una velocità Altinzolante Era Praticamente Impossibile Lario O sbaglio Invitato A tappare Dei buchi Tra virgolette Ha mandato Zanoli In prestito Secco Alla Sampdoria Per farlo Giocare di più Perché in questo momento Togliere il posto A Di Lorenzo È praticamente Impossibile Prendendo Beresischi Che comunque È un terzino D'esperienza Che conosce Il campionato E speriamo Possa giocare Quanto meno È possibile Perché Vorrà dire Che Di Lorenzo Sarà sempre bene Però È stata questa La scelta Del Napoli E poi Ha sostituito Sirigu Che per motivi Ambientali Diciamo Non tecnici Ha avuto Qualche Qualche problema Con il Napoli Ha deciso Di prendere Gollini Ma questo è stato Sostanzialmente Il mercato Del Napoli È una squadra Difficilmente Migliorabile Per quelle che sono Le prospettive E le possibilità Del club In questo momento Poi L'anno prossimo Si creda A proposito Di mercato Perché io Non credo Che Napoli Riuscirà A trattenere A lungo Uno come Vittor Rosimelli E questo sicuramente Sarà un Un problema Che si vorrà Il Napoli Un pochino Più avanti Adesso c'è da Da portare a casa C'è da vincere Questo campionato Che cosa Ilario? C'è da vincere Questo campionato Lo può perdere Solo in Napoli Adesso c'è da Ad arrivare Anche se comunque Con quel vantaggio Diventa veramente Quasi impossibile Per le altre Rientrare Ma attenzione Perché rientrare Invece entra In trasmissione Visto che avevamo Annunciato Lorenzo Petrucci Lorenzo Buonasera ragazzi Buonasera a tutti A Deborah A Flavio E a Daniele In studio E anche a tutti gli altri Allora Le prime due domande Ti volevo fare Deborah La prima domanda Ti volevo fare Le chiavi Te le hanno lasciate? Guarda Stanno cominciando A concentrare Quindi Penso ancora Una mezz'ora E poi penso Che o mi chiudono Qua dentro O mi cacciano Benissimo E allora Dicci subito Velocemente Anche quali sono Le ultime di mercato Quali sono state anche Le ultimissime Proprio agli ultimi Sgoccioli E se sappiamo Qualcosa in più Di Verdi Perché veramente È il caso Più spinoso Delle ultime Delle ultimissime Delle ultimissime Minuti Lorenzo Allora partiamo Partiamo con Verdi Perché è la situazione Più spinosa Delle ultime ore Perché l'affare Era fatto Il ritorno Di Verdi A Salerno Dopo la salvezza Dello scorso anno Era cosa fatta Alla fine Poi è saltato Questo trasferimento Per un non Deposito Del contratto Si dice Che perché Un computer Non funzionasse bene Ora si sta Cercando di capire Ancora Perché Ancora Le voci Si rincorrono Ma alla fine La cosa che conta È che Verdi Dal Verona Non è poi Approdato Alla salernitana Le altre voci Le altre notizie Di mercato Di quest'ultimo giorno Di mercato Sono state diverse Più Ho notato Più movimenti Di mercato Di squadre Di mezza Di metà E bassa classifica Più che di alta classifica Ad eccezione Della Lazio Come avete voi Raccontato molto bene Con il trasferimento Di Luca Pellegrini Dall'Eintracht Di Francoforte Alla Lazio Per questi prossimi Sei mesi Con un diritto Di riscatto Fissato già 15 milioni Il calciatore Perciperà Intorno ai 750 mila euro E altri affari Le big del campione Alla fine hanno fatto Poca e niente Se ad eccezione Della Lazio Della Roma ieri Che ha tesserato In prestito Anch'esso In diritto Anche lui In diritto di riscatto Iorente Il difensore spagnolo Dall'Its Tanti movimenti Delle squadre Di metà E di bassa classifica Come per esempio La Fiorentina Ha riscattato Barak Dal Verona Che aveva preso Già nella scorsa estate Ha preso anche Sabiri Il trequartista Dalla Sampdoria Ma lo prenderà A partire da giugno Ha firmato Per il classe 1996 Un contratto Di tre anni e mezzo Piro Gopulos Il terzino Della Grecia Origine della Grecia Dal Sassuolo È andato al Bologna Lui in prestito È stata Un'ultima giornata Di mercato Ricca di movimenti Tra gli esterni Tra terzini E esterni Di fascia Perché anche Zortea Dall'Atalanta L'esterno classe 99 Dall'Atalanta È passato Dal Sassuolo Con prestito In diritto di riscatto Un'empoli Scatenata Perché dopo aver comprato All'inizio di mercato All'inizio di gennaio Caputo Dalla Sampdoria Ha un po' rifatto Tutto il mercato Tutto il reparto offensivo Ha preso Vignato Dal Bologna Anche lui In prestito Con diritto Di riscatto E piccoli Dall'Atalanta Con prestito Di un anno e mezzo Un colpo di mercato Un po' a sorpresa Che si vociferava Già nei giorni scorsi Ma è stato ufficializzato Soltanto Nella mattinata di oggi È del trequartista Seconda punta Tovén Forse molti se lo ricordano Perché è campione del mondo Con la Francia Nei mondiali del 2018 Dopo aver giocato Per quattro anni In Messi Con il Tigres È passato All'Udinese Per prendere il posto Di De Lofeola L'attaccante spagnolo Che si è infortunato Al crociato Pochi giorni fa Lorenzo La questione Zagnolo E la questione Skriniar Invece È stata Più volte citata Si pensava A un cambiamento Di quello che è Il risultato finale Oppure no Allora La questione Skriniar Il Paris Saint Germain In realtà Ha provato fino all'ultimo A prendere A prendere il difensore Ha fatto anche un'offerta All'Inter Che poi Il club nero-azzurro Non ha accettato Forse secondo me Ha più preferito Perderlo a giugno Che adesso Anche con una scelta Di Basta Di valore Secondo me Perché non hanno trovato Un sostituto Si era pensato L'Inter Aveva pensato anche A De Miral Il difensore Dell'Atalanta Ex Juventus E Sassuolo Ma il club Di Bergamo Il nero-azzurro di Bergamo Ha sparato molto alto E quindi L'Inter Forse ha rimandato L'acquisto Di un difensore centrale Nel mercato estivo Quando A partire dal 30 giugno Perderà Skriniar Passando a Zaniolo Anche la questione Zaniolo Ha tenuto molto banco Qui Come anche a Milano Si vociferava Che in realtà Poi alla fine Nella giornata di ieri sera Zaniolo Avesse accettato L'offerta del Bornhoof La squadra inglese Che si trova Alla diciottesima posizione In Premier League Accettando i 5 milioni Di stipendio E con la Roma Che andavano 30 milioni Ma poi alla fine Il Bornhoof Ha rifiutato La controproposta Del Di Zaniolo Che aveva fatto Un po' una marcia indietro Anche perché Il Bornhoof Aveva già acquistato Troire dal Sassuolo Per la stessa cifra Di 30 milioni Quindi alla fine Non poteva spendere 60 milioni Per due giocatori L'Inghilterra Passiamo un po' Al mercato estero Per il mercato estero Quello che ha regalato I botti di mercato Quelli un po' più ricchi In queste ore Si sta concretizzando Forse l'affare di mercato Più ricco di sempre Sicuramente in Inghilterra Il passaggio di Enzo Fernandez Il centrocampista Del Benfica Al Chelsea In queste ore Sta facendo In questi minuti Sta facendo le visite mediche Per 120 milioni Passerà al club blues Come cambia anche Vedi Si parla dai 35 italiani A quelli internazionali Dove non c'è 120 milioni È una cifra spropositata Esagerata 120 milioni Assolutamente Pagata la clausa A gennaio L'ultimo giorno Di Giorginio Pure stavi dicendo Ti salutiamo Lorenzo Dicevo Enzo Fernandez Sì Battere il record Di Grilis Di 117 milioni Quando era andato Al Manchester City Mi stavi chiedendo Flavio Anche di Giorginio Così chiudiamo Giorginio Sì Giorginio È passato Per circa 15 milioni Dal Chelsea All'Arsenal Un contratto per lui Di tre anni Andrà a rinforzare La squadra Che in questo momento È prima in Premier League Lorenzo Intanto grazie mille Posso fare una domanda Lorenzo Assolutamente sì Vai 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 Volevo chiedere a Lorenzo Non è che se tu hai Due accrediti Lì al collo No vabbè Però questo Non è giusto Questo qua Posso fare una battuta Ne ho due Perché la persona Che doveva venire con me Non è più venuta Eh lo so Ma io lo so Perché di chi è L'altro accredito Perché sei un cretino Comunque Perché due Attenzione No non sono due Non sono due Possiamo dire come una famosa pubblicità Ci vuoi smettere con buone Esatto Yes Grazie mille Davvero per essere stato qui con noi Grazie a Lorenzo Petrucci Ciao Lori Grazie a voi Grazie mille a Lorenzo Petrucci Come continuiamo Dottoressa? Beh io sono rimasta anche un po' sconvolta Da questi ultimi attimi di calcio mercato Ma devo dire Non mi hanno scombustolato più che altro Ciò che sta succedendo in Serie A Perché ci sono diverse crisi Tra cui quella del Milan Un Milan che gioca Ma non sembra scendere in campo Con un'anima Sì Non c'è più quella cattiveria Che contraddistingueva i rossoneri L'anno scorso Alcuni hanno parlato di giocatori Alcuni hanno parlato di allenatore Altri hanno parlato di mercato Bisogna capire qual è veramente la chiave di tutto Pioli ha sempre mantenuto la metodologia Di questi tre fattori Io mi sentirei di andare a parlare più dei giocatori E del mercato eventualmente che è mancato Ma ancora di più dei giocatori Perché insomma dal punto di vista dell'allenatore Secondo me non ci sono grosse osservazioni da fare Pioli stavo dicendo Ha mantenuto sempre la stessa metodologia Probabilmente se bisogna fare un appunto al tecnico È che dovrà trovare il coraggio di cambiare qualcosa Però i giocatori devono cambiare sicuramente Il loro status mentale E anche atletico Perché comunque il Milan è in difficoltà fisica E questo non va bene Daniele più che altro Credi che veramente possa rischiare Pioli Visto che alcuni li sostengono Possa cadere da un momento all'altro Sarebbe veramente del clamoroso Un esonero dell'allenatore campionista E ricordiamo Pioli on fire è stato cantato Cantato e ricantato da tutti i tifosi Anche domenica Anche domenica E adesso è fire È bruciato Per così dire No, no Io non credo Non credo che a questo accadrà mai Perché il Milan ha dei dirigenti Molto seri come Maldini Come Massara E credo però Al contrario di quello che dicevi tu Credo che Pioli qualche responsabilità ce l'abbia Ma più che altro perché lui Io lo conosco abbastanza bene Pioli e il suo staff Loro hanno fatto Un anno alla Lazio Fantastico La Lazio ha fatto una finale di Coppa Italia È andata al terminale di Champions Dopodiché poi si è completamente perso Nel secondo anno E mi sembra tanto di rivedere Un film già visto Quello che sto vedendo adesso Come se dopo la grande impresa Lui non riuscisse mai a riconfermarsi Esatto Esatto Proprio perché lui ha un problema Come di Anche di autorevolezza Da dover Prendersi ancora di più Speravo che lo Scudetto Gli avesse dato questa sorta di carisma Sì Avesse stato Però Invece Mi sembra che Ecco Leao Che era il giocatore Che doveva essere Il trascinatore Di questa squadra Stia più pensando al contratto Anche giustamente Rispetto al campo Il Milan è completamente Un'altra squadra Mi sembra molto La Lazio Che si è persa Rispetto al Milan Che è una squadra Che ha vinto lo Scudetto Un film veramente molto già visto Ilario D'altra parte Noi ricordiamo Qualcuno Che pensavamo Che l'unica squadra Che potesse realmente Competere con il Napoli Fosse proprio Quel Milan Quel Milan Che ad oggi rivediamo In queste condizioni Forse la condizione fisica Forse la condizione psicologica Forse anche il fatto Che non si è reinventata Dopo Lo Scudetto vinto Non so cosa ne pensate voi Però io credo Che i problemi del Milan Non nascano oggi Ma da quest'estate Non è sicuramente colpa Di Maldini e Massara Il mercato fatto Perché ricordiamo Che sono dirigenti Che fino al giorno Della scadenza del contratto Non sapevano Se restare o meno Perché c'è stato Un cambio di dirigenza Voglio anche ricordare Che Pioli L'anno scorso Ha sicuramente vinto Da protagonista Il campionato con il Milan È sicuramente Merito suo Però Quando ti manca Un uomo come Ibrahimovic Nel gruppo del Milan Che è comunque un gruppo Anche formato Da ragazzi giovani Leao È sicuramente Un talento straordinario Però io ricordo L'anno scorso Ibra Che lo marcava Ad uomo Ad ogni partita Cioè Ibra in panchina Marcava Leao E ogni movimento Gli diceva cosa fare Lo teneva sempre sul pezzo Cioè io credo Il primo a parlare Negli spogliatori del Milan Dopo la vittoria Dello Scudetto È Zlatan Ibrahimovic Quindi Da quel punto di vista Secondo me Ha perso tanto Ha perso anche Un uomo Come che sì Il Milan Non è stato sostituito Diciamo la verità Quindi Il colpo De Catteler Che al momento Non Non sta portando nulla Al Milan Questa è Ed è l'unico acquisto Del calciomercato Rosso Nero Quindi diciamo I problemi Sono tanti Anche se io credo Parliamo della squadra Che l'anno scorso Ha vinto lo Scudetto Che la vera antagonista Del Napoli Quest'anno Dovesse essere L'Inter Che secondo me È quella che Ha la rosa Più forte di tutte Ancora ad oggi Poi Può capitare Di sbagliare l'annata Ma secondo me L'Inter è nettamente Superiore al Milan È almeno Alla pari con il Napoli Almeno E tra pochissimo Parleremo anche Della questione Inter Di come si sta comportando E nei big match E poi In quelle partite Che potrebbero Sembrare facili Su carta Noi Andiamo in pubblicità A tra pochissimo Alla pari con il Napoli